Onorevole Paolo Ripamonti, il suo primo salone dell'agroalimentare da deputato che rappresenterà la Liguria in Italia. Un bilancio di questa esperienza? Molto positivo, il contesto è meraviglioso, i chiostri sono una roba che lascia senza fiato, il finale ha sempre dato prova di sé con grande merito con questa manifestazione qui, promuoviamo l'agroalimentare che è una nostra eccellenza, quindi siamo molto contenti. Vedo che il pubblico risponde con grande entusiasmo, la location è buona, con Dio ci ha dato anche una giornata che viva Dio non piove, quindi è bene così. Benissimo, e quali saranno le battaglie in nome dell'eccellenza della Liguria a Roma? Qualunque tipo di battaglia possibile e immaginabile che possa difendere il Made in Italy e in modo particolare il Made in Liguria e se posso aggiungere il Made in Savona Imperia, visto che è il collegio che rappresento, credo che faremo le battaglie sugli scudi per questo tipo di eccellenze che sono la nostra peculiarità e il nostro futuro.